Le alghe, sì, invece. Sì, ho mangiato delle alghe fritte in un ristorante cinese, possibile? Sì, come? Scusa, dì la verità, com'è. Di che sanno? Sì. Vuoi che ti dica di alga, ma non so di che cosa sappiano. Perché la Navratilova, l'ex tenista famosissima, lei è una... Pensavo fosse il nome di una alga, scusa. No. Nome scientifico. Un'abitudinaria. Ed è una moda che si sa di... Sì, sì. Ah, le alghe, addirittura l'università di Catania, città che non mi è del tutto estranea, le studiano le proprietà antivirali, troppo, quindi serve anche in periodo di influenza, forse, forse, per chi ha il coraggio. Vediamo, Francesca Fabri. Dulce, Kongu, Wakame, Saladossian, nomi esotici e musicali delle sconosciute e affascinanti piante del mare, dalle potenzialità e dalle forme svariate. Ma oggi andremo alla scoperta dell'universo delle alghe con Fabio Consonio e sua moglie Wanda. Tutto il buono delle alghe. Come nasce l'idea di un'algoteca, Fabio? Innanzitutto la gente pensa normalmente che le alghe siano qualcosa di appiccicoso, di fastidioso. In realtà hanno delle potenzialità straordinarie con le quali si possono fare appunto dei prodotti alimentari o dei prodotti per la cura del corpo. Per quanto riguarda l'alimentazione dobbiamo dire che le alghe sono buonissime e hanno un gusto straordinariamente ricco e soprattutto sono ricchissime di sali minerali, vitamine, proteine, amminoacidi e fibre. Nel mondo esistono più di 100 qualità di alghe commestibili. Ma quale possiamo trovare, Fabio, in Italia da usare per esempio in cucina? Per esempio troviamo prevalentemente le alghe dell'oceano atlantico francesi come la lattuga di mare che può essere sotto forma di prezzemolo di mare per insaporire in maniera molto facile oppure a foglia intera per fare delle deliziosi insalate da condire con l'olio e limone oppure la dulce rossa, sempre atlantica, per fare delle deliziose frittatine o la royal saccarina per fare degli involtini o delle minestre con un gosto dolciastro. Infine gli spaghetti di mare che possono essere una base per fare dei deliziosi risottini in soffritto o anche una base per fare dei condimenti per la pasta. Ma fatti ma è vero che c'è un'alga che utilizzano i napoletani? Sì, la lattuga di mare è usata e cresce anche nel mare mediterraneo usata a Napoli per fare le famose zeppolelle mare quindi queste frittelline cotte nell'olio appunto fatta con l'alga. Fantastico! Facciamo due salti in padella con le alghe! Ricette con le alghe. Vanda, facciamo entrare questi ingredienti a pieno diritto nella cucina mediterranea. Devo dire che è un'impresa molto ardua. Allora, cominciamo con degli stuzzichini. Sì, ti faccio assaggiare Francesca degli stuzzichini. Prendiamo del pane che è questo ma potrebbe essere quello che piace. Allora, ok, questo che cosa è Vanda? È un patè, è un patè fatto con ortaggi freschi, con ortaggi freschi, erbe aromatiche e l'alga kombu. Assaggia che delizia, favoloso. L'alga kombu qual è? L'alga kombu è questa. Va naturalmente messa a bagno per qualche minuto, poi si asciuga leggermente con uno straccio da cucina, si mette nel frullatore assieme appunto a ortaggi freschi come cipollina, carote. Assomiglia moltissimo al gusto del pesto. Sì, si avvicina molto perché c'è anche il basilico, ovviamente, il rosmarino eccetera e qui nascono dei crostini favolosi che possono essere usati così per fare uno stuzzichino prima di cominciare il nostro pranzetto. Io butto la pasta, Amanda, eccoci, l'acqua bolle. Butta pure la pasta. Eccoci qua. Ma tu le hai preparato un suglino per questi spaghetti? E certo, e adesso ti dico come l'ho preparato. Basta fare il semplice e classico soffrittino con la cipolla, l'olio e dopodiché butti il pomodoro che può essere il pomodorino fresco, la passata, il pelato, quello che preferisci. Ma qui le alghe dove sono? Adesso le mettiamo. Le alghe vanno messe naturalmente a cottura quasi ultimata, Francesca, perché altrimenti se noi le facciamo cuocere troppo, cosa succede? Perdiamo tutte le proprietà dei minerali. Allora, gli spaghetti sono quasi pronti. Gli spaghetti sono quasi pronti. Quindi facciamo così, questa è la salade Osean, è un misto di dulce, nori e lattuga. Le mettiamo un pizzico per insaporire, giriamo e il nostro sughetto alle alghe è pronto. E adesso diamo alle nostre amiche la ricetta per fare una bella insalata con le alghe. Ma prima di partire con gli ingredienti, quanto costano le alghe? Ma questa è un'insalata tricolore, come vedi, bianca, rossa e verde, insalata all'italiana, quindi insalata alla mediterranea. Questa è una dose per sei persone, sono alghe disidratate, naturalmente vanno messe a bagno e costa circa 12.000 lire. Mettiamole a bagno e procediamo con una normale insalata. Ma certo, procediamo con una normale insalata. La mettiamo a bagno, poi la sciacquiamo bene e la lasciamo in 5 minuti che si rapprende. Dopodiché andiamo ad unire dell'uvetta passa, guardate, dell'uvetta passa, vedi Francesca, così molto semplici, ne buttiamo dentro un po', poi mettiamo dei pinoli, quindi tutti i prodotti tipicamente mediterranei, come vedi, un pizzico di pepe e un pizzico di sale, sale alle alghe. Per chi non se la sente di cucinarle magari utilizzandole nell'insalata e vuole fare comunque un bel pieno di energia, può assumerle sotto forma? Di compresse, per esempio, come se fossero degli integratori. Allora, periodo di influenza e l'inverno, dove troviamo un bel carico di vitamina C? Per esempio, la palmaria, che è questa alga rossa atlantica, è ricca di vitamina C, fitonutrienti, per cui va bene anche per prevenire un pochino questi che sono i mali di stagione, l'influenza. Fabio e Vanda, tre anni fa, sono stati uniti dalle alghe, perché anche il tuo bouquet era alle alghe. Alle alghe. Allora, le alghe Vanda sono da sempre alleate preziose della pelle. Che consigli possiamo dare? Utili, famosi, rimedi della nonna alle nostre amiche che ci seguono da casa? Sì, per esempio, possiamo vedere una maschera per il viso, decisamente economica, preparata con queste foglie di alghe kombu, che vanno messe naturalmente a bagno, in acqua tiepida, poi vanno leggermente strizzate, così, e dopodiché appoggiate sul viso, stese molto bene sopra il viso, così, per una quindicina di minuti. Quanto costano? Ma direi che con un sacchetto che costa 7500 lire circa, puoi fare almeno 10 maschere. Ecco, fanghi anticellulite, li possiamo fare da noi? Sì, li possiamo fare da noi con dei costi veramente bassi, utilizzando dell'argilla verde ventilata, si mette una quantità necessaria in base anche alla zone o le zone che noi vogliamo coprire, poi si mette un pizzico di alga in polvere, alga kombu, laminaria, per esempio in questo quantitativo, tanto così, poi si aggiunge un goccino di olio di germe di grano o di mandorla, e poi si unisce acqua quanto basta per fare il nostro impasto. Vanda, quanto può costare questo fango anticellulite fai da te? Ma, per esempio, questo barattolo costa 20.000 lire e si possono fare circa 30 applicazioni, per esempio, su cosce e glutei. Ma è vero che c'è il doppio uso, perché può servire anche per i reumatismi? Ma certo, basta applicare un po' di questa pastella sulla parte dolorante, lasciarla per circa mezz'ora e tutti i dolori saranno scomparsi. Sono davvero strabilianti queste alghe. È stato bello sentirsi sirenetta per un pomeriggio, e a chi continuerà a guardare le alghe con estrema diffidenza, dico solo una cosa, che se la vita viene dall'acqua, non pensate che nell'acqua vanno cercati gli elementi per migliorare la vita? Brava, brava Francesca, è vero? Quindi non solo in cucina, ma anche in tantissime applicazioni per la nostra salute.